Tossolini diventa un tiro prima volta alla traversa, colpita dal Bologna, grande opportunità per il pareggio, non è finita, Buffon! Sancigi copia il miracolo finale, arriva uno, arriva due e arriva tre. Francesco Cotti e la parola di Buffon! La parola di Buffon! Straordinario intervento di Gianluigi Buffon! Ancora Maggi in testa, palla dentro, pericola al volo, Gigi! Impedisce la doppietta a Davide Loppez! Qui da Rich adesso l'aiuto, attenzione agli Aic, vince il tiro due volte e poi serve un'era Buffon! Su e der, miracolo di Gigi! Grazie a tutti! Girardino, di tacco, attenzione Bertolacci, Bertolacci ancora, Bertolacci il tiro, Buffon, miracolo! Arrivano anche gli altri, Bernardeschi, Bernardeschi cross in mezzo, Buffon con i piedi, miracolo! Dopo una deviazione, distinto Buffon! Con il sinistro, per me sul secondo palancolo, Buffon su Gianto! Parata strepitosa di Gigi! C'è liberissimo dall'altra parte con il testo, salto a mezzo, di Buffon e poi travessa! Passa a mezzo, ma, ma che rischio che abbiamo corso! Che rischio, grande parata di Buffon! Una rimessa lunghissima la sua per Borriello, colpo di testa, attenzione! Il destro da lontano, Buffon! Parata strepitosa su Pisacane! Parata veramente meravigliosa! Che parata di Buffon! Che parata di Buffon! Ma adesso per Pogdani, ancora Malonga, il tiro di Malonga, Buffon! Si allunga ancora una volta Gigi! Stra-decisivo! Ancora una volta sul tiro del francese Dominique Malonga! Che parata di Buffon! Il tiro di Colucci Buffon! La mette in angolo! Gran parata di Gigi Buffon sul destro di prima intenzione! Che si è allungato! La parte Farias! La parte Farias a destra Gigi! La palla Gigi a destra! Pugno chiuso di Gigi sullo stadio! L'ovazione del Raider Stadio! Tutti addosso a Gigi! Il portiere più forte del mondo! Ero di quadro il suo foda! Buffon meraviglioso due volte, ha parato il rigore di Kalinic, straordinario Zagovic-Buffon! Ero di quadro il suo foda! 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 Ero di quadro il suo foda!